E adesso facciamo di nuovo un pezzo di Emerson Ekenpalmer, composto originariamente da Aaron Copland nel 1942 per un insieme orchestrale strano, tre tromboni, tre corni francesi e compagnia bella, parole non ci sono perché non è cantato, è suonato da Emerson Ekenpalmer nello stadio di Montreal in un inverno del 77 se non sbaglio e per curiosità il Moog era riscaldato con un asciugacappelli per mantenerlo costantemente a 25 gradi perché se non ci scordavano, adesso noi ci proviamo però facciamo quello che possiamo, il Moog è un sintetizzatore di suono insomma, grazie! Grazie mille! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.